Oggi presentiamo una ricetta molto particolare che in realtà non si incontra. Diciamo che vi presentiamo oggi un creme di Nutella. Io già sai che molti di voi stanno pensando, ah, creme di Nutella? Qui nel Youtube, qui nel Instagram c'è quanti reselli di Nutella per lì feita con lecci condensato, con quello, con il altro. Ma questa gente è particolare, già ho parlato. Qualche creme di Nutella che voi trovano nel Youtube, nel Instagram, in tutte le reselli, se io coloco in un congelatore, verrà dura come una pedra. O se io voglio fare, per esempio, un ricetto di un algo che va a temperatura di geladeira, verrà dura come una pedra. Bom, ora vamo a fare una resella che o nella geladeira e in un congelatore, o seggi dentro di una vetrina di sorveglia, non verrà dura. Per questo ho parlato che era speciale questa resella. Quindi, ripeto, sarà una resella di Nutella, ma non una normale Nutella. Una Nutella che, anche per la confittaria, può servire per fare un ricetto. Io ho molti colleghi che usano questa Nutella per fare un ricetto di croissà, che in Italia, per la maniera, a gente toma il caffè, noi abbiamo i croissà che sono guardati dentro della geladeira, e allora questa Nutella non verrà dura. E anche per fare un cremino, nella nostra cuba, per fare questa camada, o per fare un variegato di Nutella, o seggi un fior di latte, per esempio, misturato con questa Nutella. Ripeto, questa Nutella non verrà dura. O fare un buon sorveglia di lecinino con variegato di Nutella, per esempio. Ripeto, questa crema di Nutella non è la classica crema di Nutella che incontrano per lì, ma è una Nutella specialmente pensata per non durare a temperaturas frie. Ok? Bom, vamos a presentare i ingredienti. Ok? Qui abbiamo il nostro olio di cocco senza sabore, questo olio di cocco che si vende in questa loggia di prodotti naturali. Quantità di olio di cocco è 50 grammi per kg. Io, come sempre, do la risetta in un kg, poi, se voi che vogliono fare 2-3 kg, per esempio, nella nostra sorvetteria, la gente ci prepara, mai o meno, uno 3-3 kg, dipendendo dalla saída, perché la gente fa un sorveglia, per esempio, con sorveglia di Avellà, il camada di Nutella chiamiamo di cremino, un po' di granel di Avellà insieme, chiamiamo di sorveglia di cremino, che sai abbastanza, e la gente ci prepara che lì, mai o meno, 2-3 kg per settimana. Si prepara una vez per settimana, e si appogge a guardare la geladera, sin problema, dura 15-20 dias, sin problema. Ok, intò, ripeto, olio di cocco, 50 g. Segundo ingrediente, olio di girassol, ok, quanto? Vamos ver, che non mi lembro, 160 g. ovviamente, pasta di Avellà pura, è, a gente fa nostra pasta di Avellà, calculem che, nella nostra filosofia, anche nella nostra loggia, facciamo tutto, no, açucarino invertito, pasta di Avellà, ma si potete comprare anche questa pasta di Avellà, che vendono, queste distribuidore, una buona pasta di Avellà, è, gente? Pasta di Avellà, 200 g per kg, poi, leite integrale, normale, 130 g per kg, qui abbiamo, un po' di glucosa, questa glucosa liquida, è, sono 40 g per kg, io vor lendo, gente, perché non mi ricordo la quantità di cabeça, ricordatevi che che ho due cose buone, è, la prima è la memoria, e la seconda non mi ricordo, per questo, tengo che essere sempre aperto qualcosa con gli ingredienti, ora, açucarino invertito, la risetta di açucarino invertito, gente, a gente ha passato, te che guarda, al live numero 2, o, cliccando qui in basso, a gente vai collocando un link per entrare al live, ora non mi ricordo un minuto, o se no, puoi entrare al live numero 2 del 18 di marzo, qui no YouTube, ok? Então, açucarino invertito, quantità di 300 g per kg, ok? Dopo abbiamo, il nostro emulsificante naturale, la nostra gomma di ovo, 40 g per kg, di gomma di ovo, e, per ultimo, la parte solida, solido che abbiamo, ovviamente, il cacao, il cacao è un po', aconsello un 10-12, è, gente, ma si può usare anche un 22-24, 10-12, poi, se vogliamo una co, un po' più Nutella, Nutella, o se è un po' più clarina, prendiamo un cacao non alcalinizato, di altra forma, io ho un cacao alcalinizato, diciamo che questa Nutella, un po' più oscura, con una spatola, questa di silicone, la nostra inseparabile, induzione, fogare induzione, e, questa volta, useremo una planetaria, possiamo, anche, fare, planetaria, il composto, sia più homogeneo, ok? Ora, facciamo un passo a passo, di come misturare i ingredienti, ok, appresentato tutto, ci siamo, facciamo un passo a passo, molto facile, pannella, collociamo, tutta la parte che è liquida, avremo, meno che, a gemma di ovo, e, uleici integrale, ossia, olio di cocco, vamo collocando, olio di girassol, tamb'è, collocaremo una nostra pannella, olio di cocco, olio di girassol, e poi, nostra pasta di avellà, ovviamente, ok? Pasta pura di avellà, vamo collocando una nostra pannella, e, succo, succo, invertito, tutto giusto, gente, sem mezzo, succo, succo, invertito, ora, o lec, già falei, o lec e a gemma di ovo, vamo, eh, deixare a parte, non colocaremo junto, con i alti ingredienti, ora, vamo ligar, nostro fogal a induzione, eh, pessoal, un fogano a indossare un fogano normale, tanto fa, leggo in basso, ora non bisogna di una temperatura specifica, in realtà bisogna solo accazzare gli ingredienti, io normalmente sto accazzando e misturando, accazziamo e misturiamo allo stesso tempo, verrà che dopo di un po' un creme omogeneo, e come comincia a fare le primi borbuli, già desligo il fogo, perché non bisogna di una temperatura specifica, ma bisogna di calore, perché attraverso il calore, poi andiamo derretendo gli altri ingredienti. Quindi, sto accazzando i miei ingredienti, e ci vediamo qui a poco. Pessoal, io già misturei la parte liquida, ripeto, deixando di lato la gema di ovo e la leche, ok? Quindi, misturando, già cominciò a fare le primi borbuli, già temo un calore sufficiente, ora facciamo che? Vamo basso qui la nostra planetaria, e leggo in un minimo, non velocità alta, velocità bassa, e scollocando i nostri ingredienti qui. Ok? Ovviamente, con il calore, vai si misturando tutto, non deixiamo nulla per l'altra, mettiamo tutto, limpiamo bene con il nostro pão duro. Ok. Ora, io lascio misturare i ingredienti, per virare un composto omogeneo, più o meno un minuto, ripeto, la velocità baixa, più o meno un minuto. Un consiglio, gente, specialmente, se stiamo facendo poca quantità, ma è meno che è molta quantità, lasciamo misturare un pochino, e poi, cosa facciamo? Pariamo la nostra planetaria, levantiamo qui, e diamo una misturata in basso. Perché? Perché, a volte, specialmente, ripeto, la parte finale, diciamo che la planetaria non riesce a prendere il fondo. Quindi, pariamo un secondo, diamo una misturata per prendere la parte un pochino che sta là nel fondo, misturata, un pochino, e, una volta, ora, fechiamo, e, ripeto, la velocità minima, un minuto. Ok? Noi vediamo qui un minuto, gente. Ok, io lascio, diciamo, misturare un minuto. Gente, voi potete vedere che ancora non è un creme homogeneo. Perché? Perché ancora faltano due ingredienti. E, diciamo che questa preparazione, non, in realtà, vediamo che quando mettere la gemma di ovo, vediamo la magia della emulsione. Vediamo che questo creme, di repente, di un creme disomogeneo, divirà un creme liso, perfetto, homogeneo. quindi, seguiamo, seguendo, misturando, sempre, alla velocità minima. La prima cosa, mettiamo il lecci, così, esferirà un pochino. Qui, devo aspettare, un pochino, il lecci si misturare con gli altri ingredienti. Perfetto, già si misturò. E, ora, il nostro emulsificante naturale, ossia, il nostro gemma di ovo. Lo mettiamo, senza risparmiare nulla. ok. Oh, a te aumenta un pochino la velocità, ma è, un pochino, gente, non collocare molto rapido, se no, in Italia, a gente, fala che va inlochecendo, o.sia, vai si disiuntando tutto. Se accontese è questo, fiquem tranquilli, è solo riduzire, attraverso la velocità, girare un po' e la vai virare un creme omogeneo, perfetto. Ok. Deixiamo, praticamente, misturando, per lo meno, 2-3 minuti, che la emulsione, fiquem, fiquem una buona emulsione. Eh, ora, io voglio parare un secondo, per mostrare a voi che, che, di un creme, disjunto, disomogeneo, attraverso, no, da nostra gemma di ovo, virò un creme perfeitto. Ok. Ok. Oh. E li virò un creme, praticamente, omogeneo, perfetto. Olie. Mmm. È perfetto, gente. ora, ovviamente, che è molto liquido, speriamo che, sperare, li sfriare, per piegare la testura. Eh, guardare una geladera, a 4 gradi centigrados, eh, che, possiamo dire, più, compatta, eh, non è, non è, in liquido, questa forma. Ripeto, potremmo usare, questa, questa Nutella, casera, sia, per prendere un bolo, che è che, che fai dentro di una geladera, per esempio, per la Nutella non fai dura, per prendere un croissant, per esempio, o, possiamo usare, questa Nutella, nel nostro sorveggio, o tipo cremino, per fare anche la camada di cremino, o come un variegato. Ripeto, che poi, sarà la nostra fantasia, la nostra creatività, no, misturare, per esempio, con lecinino, o misturare, se la, con avellà, per creare il sapore tipo cremino, o con, normalmente, in Italia, un fior di latte con Nutella, che ci chiamiamo di variegato Nutella. Ok? Eh, diciamo che, eh, questa ricetta, acaba qui, eh, spero tutti voi, nei nostri prossimi video, qui nel Youtube, iscriviti al canale, qui in basso, siga a gente, no Instagram, siga a gente, no Facebook, otra vez, per un altro video, spero tutti voi, ciao, novamente, bello, ciao,